Se sei sempre alla ricerca di nuovi gadget tecnologici che possano semplificare le tue giornate e aggiungere un tocco di innovazione alla tua vita, sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato 6 gadget tech innovativi e funzionali disponibili su Amazon, perfetti per chi ama restare al passo con i tempi e avere accessori utili sempre a portata di mano. Vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate per questi imperdibili gadget, potete farlo comodamente dai link che trovate proprio qui sotto nella descrizione del video o nel primo commento. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale Telegram delle offerte per non perderti nessuna promozione. Ogni giorno selezioniamo i migliori sconti su Amazon in diverse categorie, così puoi risparmiare tempo e denaro. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Partiamo da un gadget che per una sua funzionalità specifica potrebbe sembrare quasi arcaico inserito in una lista di accessori tecnologici, ma l'innovazione è anche saper usare tecnologie passate per rendere funzionali quelle moderne. Ad esempio questo powerbank con ricarica a manovella offre una soluzione pratica e versatile per chi cerca un sistema di ricarica affidabile anche in situazioni di emergenza. Con una batteria da 22.500 mAh, questo dispositivo permette di mantenere sempre carichi e alimentati i propri dispositivi mobili. Sono presenti una porta micro USB solo in entrata per la ricarica via cavo con potenza di 18 Watt, una porta USB di tipo C in entrata e in uscita con ricarica rapida da 18 Watt e due porte USB di tipo A solo in uscita sempre da 18 Watt. La funzionalità di autosufficienza energetica permette di generare circa 5 Watt di potenza girando manualmente la manovella a 180 giri al minuto. Ideale quando non è disponibile una presa di corrente. Inoltre è possibile utilizzare un pannello solare esterno da acquistare a parte. È incluso un ampio pannello luminoso da 86 lumen con tre livelli di luminosità e una torcia a LED da 37 lumen, due livelli di luminosità e funzione lampeggiante di emergenza. Completa il prodotto un sistema di sicurezza che protegge da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamenti e sovraccarichi. Il prezzo consigliato senza sconti è di 99 euro e 99. Lo trovate al link qui sotto in descrizione. Questo caricatore wireless 3 in 1 è una soluzione pratica e versatile per chi desidera ricaricare i propri dispositivi senza l'ingombro di cavi, dedicato soprattutto agli amanti del mondo Apple, ma non solo. Compatibile con iPhone, AirPods e Apple Watch consente di alimentare contemporaneamente questi dispositivi grazie alla tecnologia di ricarica wireless. Il supporto magnetico integrato permette di fissare facilmente lo smartphone dotato di MagSafe o custodia magnetica compatibile, ruotandolo sia in verticale che in orizzontale, rendendo comoda la visualizzazione durante la ricarica. Adatto anche per altri smartphone auricolari e smartwatch compatibili con la ricarica wireless, il caricatore è pieghevole e si trasforma in un accessorio da viaggio compatto, ideale per risparmiare spazio in zaini o borse. Grazie al sistema TempGuard, che monitora costantemente la temperatura durante la ricarica, viene garantita una protezione ottimale contro surriscaldamenti, contribuendo a prolungare la vita delle batterie. Il prezzo consigliato è 43 euro e 99, ma si trova spesso scontato. Abbiamo già selezionato l'offerta Amazon per questo gadget, che trovi al link qui sotto in descrizione. È difficile dare un nome a questo gadget per identificarlo, per via delle molte funzioni che integra nel suo corpo supercompatto. Personalmente ho deciso di chiamarlo stick da viaggio multiuso, ma se avete qualche idea migliore comunicatemelo nei commenti. È un accessorio compatto e funzionale pensato per chi è spesso in movimento e ha bisogno di gestire cavi e dispositivi in modo pratico. Integra un cavo USB di tipo C da 18 cm e 3 adattatori, permettendo di creare fino a 6 combinazioni di cavi, ideali per la ricarica fino a 60 Watt di potenza e una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps. Lo stick offre anche spazi dedicati per due schede SIM e quattro schede di memoria microSD, oltre a un lettore di schede integrato, rendendolo particolarmente utile per chi viaggia spesso o lavora con più dispositivi. Include anche una spilla di espulsione per schede SIM, che facilita il cambio di scheda durante viaggi o esigenze lavorative. Trova spazio anche un supporto nascosto, che una volta estratto si trasforma in un comodo stand per smartphone. Il design leggero e compatto lo rende un compagno essenziale per i viaggi e l'uso quotidiano, semplificando la gestione di cavi e accessori. Attualmente è venduto al prezzo di 17,99€. Mi raccomando non dimenticarti di iscriverti anche al nostro canale Telegram delle offerte, dove troverai sconti imperdibili per questi e tanti altri prodotti selezionati con cura in molte categorie. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Il TAU-2 è il nuovo gadget tech della Rolling Square. Si tratta di un power bank d'emergenza estremamente compatto, integrato direttamente in un porta chiavi. Con una capacità di 2000 mAh, è possibile ricaricare rapidamente dispositivi mobili, offrendo fino al 30% di batteria aggiuntiva nei momenti più critici. Il design pratico e versatile consente di attaccarlo alle chiavi grazie a un attacco a sgancio rapido. È fornito con una docking station magnetica per la ricarica, che può essere semplicemente appoggiata sulla scrivania o attaccata a parete tramite un adesivo nanotecnologico. È dotato di due cavi integrati, uno USB di tipo C in ingresso e uscita, che serve anche per la ricarica del porta chiavi senza la docking station, e un altro cavo adatto a porte lightning e micro USB, permettendo la ricarica di diversi tipi di dispositivi senza la necessità di altri cavi esterni. In aggiunta include il servizio online gratuito di Rolling Square, dedicato alla condivisione digitale di contatti tramite codice QR o NFC, trasformandosi in un biglietto da visita digitale. Offre anche una funzione che facilita il recupero del dispositivo in caso di smarrimento, grazie a messaggi personalizzabili che possono essere visualizzati da chi trova il dispositivo. Questo gadget ha dimensioni paragonabili a quelle di un porta chiavi per auto, offrendo tecnologia e portabilità per l'uso quotidiano. Il suo costo è di 29,90€. Raggiungi facilmente l'offerta Amazon selezionata dal link che trovi qui sotto in descrizione o nel primo commento. La MIT 2 è la nuova webcam di OBSBOT con intelligenza artificiale, la quale offre una qualità visiva eccezionale grazie alla risoluzione 4K, al sensore da mezzo pollice, e alla funzione HDR per la correzione della luce, garantendo immagini nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Offre una messa a fuoco automatica, fluida e veloce con riconoscimento del soggetto in primo piano. La tecnologia di inquadratura intelligente regola dinamicamente la composizione, mantenendo sempre il soggetto al centro della scena. L'inquadratura sarà gestita in automatico dall'intelligenza artificiale, allargando o restringendo il campo in base al numero di soggetti che rientrano nella scena. In modalità bellezza è possibile regolare una serie di parametri per apparire sempre al meglio. Dispone di due microfoni omnidirezionali con cancellazione del rumore, che garantiscono una qualità audio cristallina, filtrando i suoni ambientali per un'esperienza di videochiamata o streaming impeccabile. Integra anche un attacco filettato per agganciarla facilmente a cavalletti e altri supporti compatibili. È progettata per integrarsi al meglio nel flusso di lavoro, adattandosi a svariate attività, fra cui videochiamate, meeting, creazione di contenuti, live streaming, podcast e anche didattica a distanza. Le dimensioni sono estremamente ridotte con un peso di soli 40 grammi. È perfetta per chi lavora in mobilità e la connessione USB di tipo C semplifica l'utilizzo con un approccio plug and play immediato. Il costo di questo piccolo gioiello tecnologico è di 149 euro. Lo trovate al link qui sotto in descrizione. E a proposito di piccoli gioielli tecnologici come ultimo gadget di questa lista, vi presento il più recente mini proiettore portatile di Anker Nebula, il Capsule 3. Combina compattezza e prestazioni avanzate, offrendo un'esperienza cinematografica ovunque, grazie allo schermo fino a 120 pollici e alla risoluzione full HD nativa. La luminosità di 200 lumen permette un utilizzo versatile, dando il meglio di sé in condizioni di scarsa illuminazione esterna. Integra un altoparlante da 8 watt con supporto Dolby Audio che assicura un suono di qualità, con la possibilità di utilizzarlo anche come speaker bluetooth, riproducendo audio direttamente dai nostri dispositivi mobili. La configurazione è semplice e veloce, con adattamento automatico dello schermo e correzione trapezoidale in soli 3 secondi. Il sistema operativo Google TV con Netflix e altre piattaforme di streaming già integrate, offre intrattenimento completo e su misura, anche grazie alla possibilità di creare più profili utente. La batteria integrata permette di vedere fino a 2 ore e mezza di film o ascoltare 8 ore di musica. Il proiettore è dotato di wifi, bluetooth e chromecast integrati, ed è controllabile via telecomando, applicazione o comandi vocali. Infine dispone di porte USB-C, USB-A, HDMI e jack audio per la massima versatilità. Le dimensioni super compatte, la batteria integrata e le prestazioni eccezionali permette di spostarlo comodamente in qualsiasi stanza o luogo per proiettare tutti i nostri contenuti preferiti. Un vero oggetto del desiderio, attualmente venduto al prezzo consigliato di 499 euro e 99. C'è anche la versione con tecnologia di proiezione laser, che offre una maggiore copertura dello spazio colore e con una luminosità di 300 ANSI lumen, al costo di 700 euro. Per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate per questi formidabili gadget tech, vi ricordo che potete farlo comodamente dai link che trovate proprio qui sotto nella descrizione del video o nel primo commento. E mi raccomando, se non sei ancora iscritto al nostro canale Telegram ti consiglio di farlo subito. Riceverai in tempo reale le migliori offerte Amazon selezionate fra le migliaia disponibili. I nostri messaggi Telegram contengono i dettagli più importanti del prodotto e dell'offerta, in grado di farti capire in fretta se può essere il giusto affare per te. Quindi non aspettare, iscriviti ora e inizia a risparmiare. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.